Si è concluso con la visita all'Europarlamento il viaggio premio dei 32 studenti pimentesi per la 31esima edizione del concorso Diventiamo Cittadini Europei. Un itinerario alla scoperta delle principali istituzioni presenti a Bruxelles, organizzato dalla Consulta Regionale Europea, dedicato agli studenti che hanno vinto il concorso, i cui temi puntavano l'attenzione sui concetti di cittadinanza europea e disoccupazione, soprattutto giovanile, nei paesi dell'Unione Europea.